È vero, da alcune settimane Piazza del Comune è interdetta alle auto e il parcheggio di piaggia del Murello è in fase di sistemazione, ma posteggiare l'auto vicino al Sagrato del Duomo non dà una bella immagine della città, soprattutto per i turisti, i quali insieme al Duomo sono costretti a fotografare anche le auto lasciate in sosta. Non ci sono conseguenze per il traffico, d'altronde fino a qualche tempo fa quella zona era occupata dalle auto, poi fu liberata, giustamente, e adesso viene ancora occupata. Alcuni cittadini hanno segnalato questo problema, che oltretutto crea difficoltà per coloro che devono salire le scalinate del Duomo. Sarebbe opportuno provvedere. Quali possono essere le soluzioni? Intanto concludere presto i lavori di sistemazione in piaggia del Murello, che metterebbe di nuovo a disposizione quel numero di posti auto sottratti con i lavori. Quindi ripensare alla disponibilità di posti auto nella zona, compresa l'area del parcheggio Pietri, divenuto a pagamento da poche settimane nella zona vicina alle scale mobili. Infine, la disponibilità a fare qualche passo in più a piedi per coloro che hanno la necessità di recarsi in quella zona. Basta poco per ridare a quell'area l'immagine che merita di avere.